ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 quest'oggi puntata con pensieri sparsi ispirati involontariamente dai fondamentalisti della corsa che si trovano sparsi in giro per il mondo soprattutto sul web infatti questo è uno di quegli episodi in cui vado a ragionare mentre corro sostanzialmente l'ho pensata stamattina durante la mia corsetta e vado a fare un po di filosofia spicciola sulla corsa per le cose tecniche ci sarà spazio in futuro quest'oggi invece saranno discorsi un po da nerd infatti io sono un nerd della corsa ma più in generale sono un nerd a tutto tondo e quando mi appassiona qualcosa poi la vado ad approfondire molto con curiosità ed in generale proprio l'idea di diventare un minimo consapevole di ciò che sto andando a fare anche poi per banalmente farlo poi meglio io in prima persona sfortunatamente per me nel running non basta la teoria altrimenti i coach sarebbero i migliori atleti al mondo appunto anche nel correre invece capita che ci siano runner che non hanno chissà quali competenze e tecniche che invece vanno veramente fortissimo così come anche al contrario ci sono persone con tante tante conoscenze ma meno dotate dal punto di vista atletico ma perché questo pippotto introduttivo qualcosa accennavo ma soprattutto perché ultimamente ho letto e sentito di tutto sulla corsa sia su strada che su trail idee filosofiche metodologie di allenamento opinioni su scarpe di attrezzatura varia e così via in particolare devo dire mi hanno colpito due tre cosette in primis i vari record che sono stati abbattuti di recente di maratona relative quindi metodologie di allenamento di preparazione e anche scarpe utilizzate e poi un po più spostati invece sul trail un post in particolare di spirito trail era anzi una vignetta con alnessa diciamo così una descrizione una caption che ha sviluppato anche lei a sua volta una serie di discussioni filosofiche su come vivere la corsa e il trail in particolare in relazione in questo caso i follower all'influencer e così via e ce ne sono tanti non tutti per fortuna che sostengono anche a spada tratta la propria soluzione ad ogni male del running credendo che la loro linea sia la sola giusta da seguire e sembrerà una cazzata una banalità ma ho realizzato che invece non è affatto così non esiste un metodo unico quello giusto perché nessuno su uno sport variegato come il running può avere una verità assoluta sia a livello tecnico di metodologie anche se ci sono chiaramente e lo ripeterò anche dopo delle cose scientifiche che avvallano determinate tesi che soprattutto a livello di interpretazioni di vita come appunto ci sono delle cose scientifiche che dimostrano come determinate tecniche funzionino sicuramente meglio di altre o però più a terra a terra si può anche comprendere a volte questa cosa anche solo con il buon senso provando in prima persona come ci siano situazioni in cui è corretto maggiormente procedere in un modo anziché in un altro ma ripeto non esiste una verità in senso assoluto e questa cosa la ripeto ora e la ripeterò più volte nel corso della puntata perché questo è sì uno di quegli episodi alti e filosofici del cazzo che qualcuno odia tra parentesi e forse anche ragione in cui prendo questo concetto e lo declino varie volte durante i vari minuti e quindi adesso e nel proseguo dell'episodio mi concentro magari di più sugli allenamenti ma il concetto potrebbe anche benissimo allargarsi ad altre cose come le scarpe o la filosofia di vita per esempio e non escludo di fare alcune deviazioni sul tema quella vediamo cosa succede perché sto andando molto abbraccio che ne so comunque vediamo a noi ci possono essere più strade quindi tecniche di allenamento per ottenere lo stesso risultato e non è detto che una metodologia che funziona alla grande per me funzioni per altri e viceversa pensate ai professionisti loro fanno tantissimi chilometri settimanali ma noi amatori non possiamo avvicinarci a quei volumi perché non abbiamo tempo ma nemmeno le capacità fisiche ci vogliono anni ed anni di allenamento per sostenere volumi intensi e comunque difficilmente un amatore farà sempre dei bigiornalieri tante volte si tende a scimmiottare quello che fa un top in qualsiasi ambito perché per lui funziona ma non è così automatico che se noi replicassimo in modo identico i suoi comportamenti sui allenamenti otterremmo gli stessi risultati anzi oltretutto perché noi degli elite conosciamo una piccola percentuale di ciò che fanno realmente la classica immagine della punta dell'iceberg che avrete visto miliardi di volte ecco perché esistono i coach che personalizzano le varie tabelle su di noi nessuno è depositario della verità assoluta altrimenti sarebbe bravo solo quel coach lì e tutti gli altri dei pirla ci sono elementi che si sono oggettivi ma tanti altri che non lo sono ho letto di recente appunto alcune discussioni come dicevo prima su chi tecnica di allenamento che filosofia è meglio quella degli inge britzen un metodo maffettone usare solo la zona 2 usare la polarizzazione eccetera eccetera dipende dipende perché il bello è anche questo ogni organismo e ogni corpo è differente ci sono tantissimi elementi che vanno presi in considerazione bisognerebbe analizzare lo stile di vita lo stato di salute massa muscolare massa grassa abilità e anche di infortuni progressi altri sport praticati elementi genetici età obiettivi e così via anzi sugli obiettivi faccio proprio una piccola parentesi su quelli perché un conte per esempio su trail capita anche su strada ma più su trail persone che come obiettivo hanno semplicemente di fare la gara per portarla a termine invece ci sono altre persone che le gare le vogliono fare anche con un determinato risultato in mente sia di tempo che di piazzamento finale quello cambia radicalmente l'approccio che si avrà all'allenamento da parte nostra o di un allenatore che imposta una tabella e poi appunto esistono diversi metodi e approcci che funzionano ugualmente a prescindere poi che si parli di maratona mezza maratona 10 chilometri trail o un ultra trail si può arrivare allo stesso risultato con tantissime opzioni e strade differenti e forse è proprio quest'ultimo il nocciolo della questione di oggi per cui ho fatto adesso millemila rigiri di discorsi e pippe mentali che si tratti di kipchoge o di kiptum che si tratti di jimone wolmsley kilian o chiunque altro mega pro o che si tratti anche di noi amatori di midpacker che se la battono pure con le scope per arrivare poco prima del tempo massimo dei cancelli le modalità per arrivare al nostro obiettivo possono essere molteplici con una infinità di varianti e sommature pazzesche senza entrare troppo nel dettaglio ci sarà chi si trova bene magari facendo tanti chilometri a settimana chi invece performa meglio con meno sessioni ma più tirate chi fa un recupero in bicicletta chi nuotando chi stando sul divano chi usa esclusivamente scarpe con droppe levati chi corre solo con altra chi preferisce fare un tapering breve di pochi giorni chi necessita di tre settimane e rotte di recupero e così via tutto questo per dire che la verità è sopravvalutata non c'è nulla di giusto in senso assoluto e anzi diffidate di chi invece vi vende vintorta con teorie che a suo giudizio sono intoccabili scolpite nella pietra il che non vuol dire che non siano giuste e potrebbero essere pure perfette per voi e ci sta benissimo ma non è detto che sia così per chiunque che quella sia la legge nello sport a tutto tondo e nella corsa lo dicevo ci sono così tante variabili che entrano in gioco che è impossibile fare di tutta l'erba un fascio l'idea è secondo me piuttosto di trovare soluzioni che risolvano al meglio i problemi e che portino al raggiungimento del risultato con soddisfazione personalizzandosi ovviamente questo vale anche per le opinioni sulla corsa e come viverla come dicevo prima ma se vogliamo anche sulla vita in generale senza comunque adesso andare a fare i moralisti o i filosofi anche se questa sì è una puntata poco pratica e molto così volante aleatoria però pur essendoci cose tendenzialmente giuste che è risaputo essere corrette è altrettanto vero che è possibile leggere ed interpretare le sfumature in modo personale e questi dettagli sono un'infinità che generano a loro volta una quantità enorme di piccole varianti sul tema ciò nonostante con tutte queste piccole diverse interpretazioni si potrebbe anche semplificare enormemente la faccenda e ricondurre tutto a due macro categorie alla fine della fiera è così cioè i più tradizionalisti che seguono da anni ciò che dice il manuale in modo ferreo e i più moderni chiamiamoli così che magari sono anche più fighetti nello stile nella comunicazione ma che al tempo stesso portano innovazione e anche visibilità indirettamente a questo sport con in mezzo tutte le sfumature di qui sopra che ho già detto essere veramente tantissime e persone che la possono anche pensare in entrambi i modi pure contemporaneamente mescolando e provando a far convivere entrambe le anime a seconda delle situazioni come già ampiamente ripetuto non c'è un giusto o uno sbagliato c'è l'influencer c'è il non influencer c'è chi se ne frega dei social c'è chi allena in un modo chi in un altro l'importante è arrivare al giusto modo di vivere questo splendido sport e anche di allenarsi per ottenere ciò che a noi fa piacere per noi sarà senza di dubbio quello giusto quello lì quel metodo lì poi è anche doveroso secondo me provare ad aprirsi mentalmente e fisicamente a diverse tecnologie tecniche e quant'altro ma per noi per noi amatori soprattutto l'importante è trovare la nostra soluzione la nostra verità ma non c'è quella assoluta c'è solo quella giusta per noi fine di questa puntata che ha detto tutto e detto niente lo so che quando ci sono questi episodi qualcuno li odia non li ascolta nemmeno non li posso dare torto e c'è invece qualcuno che li adora enormemente non so per quale motivo in ogni caso l'invito è di commentare farmi sapere cosa ne pensate voi sul tema come sempre potete scrivermi su telegram su instagram via mail c'è tutto quanto nelle note dell'episodio infine se volete unirvi alla community dei pazzi che mi sostiene sempre nelle note c'è il link per accedere al canale patreon oppure per fare una donazione una tantum su paypal non smetterò comunque mai di ringraziare chi mette mano al portafoglio anche per pochissimi centesimini pochissimi eurini per me valgono veramente una infinita e per oggi direi che veramente tutto ho detto già abbastanza minchiate cari runners ad ognuno la propria verità ci sentiamo alla prossima puntata